. F1, clamoroso, Sainz lascia la Toro Rosso, correrà il Renault dal GP di Malesia. Era nell'aria già da tempo, ma ora sembra ufficiale, il rapporto tra Julian Palmer e la Renault è ai titoli di coda. E lo è anche quello tra la Toro Rosso e Carlos Sainz, poichè lo spagnolo, dopo una stagione in cui ha più volte manifestato la sua voglia di lasciare Faenza, dal GP di Malesia, dovrebbe correre proprio con la Renault, in sostituzione di Palmer, anticipando, così, un passaggio che sembrava destinato a compiersi a fine stagione. . Quella di Singapore dunque sarà molto probabilmente l'ultima gara di Carlos Sainz in Toro Rosso, poichè proprio a Kuala Lumpur, lo spagnolo potrebbe cambiare divisa e salire a bordo della Renault RS 17 di Julian Palmer. Un passaggio che sembrava già fatto, ma che avrebbe portato Sainz in Renault, solo a fine stagione, invece, il team di Enstone è stato capace di scippare il figlio d'arte a Marco Ico, in anticipo. . 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